Carri scontrate. Molto importanti per l'amministrazione e l'implementazione dei servizi offerti ai cittadini testimoniano una vicinanza e una capacità concreta di rispondere ai bisogni della comunità. Una vicinanza ribadita dal Presidente di Estra, Francesco Macri. Con l'apertura dello Storra Siena non soltanto affermiamo la nostra rinnovata presenza sul territorio, ma, ha detto Macri, chiudiamo un cerchio. Tutte e tre le realtà che hanno costituito Estra, Prata e Rezza Siena, dispongono da oggi delle medesime strutture di servizio. Il modello commerciale di Estra, ha aggiunto Macri, non solo è rispettoso e trasparente verso la propria clientela, ma evolve in innovazione tecnologica e messa a punto di offerte personalizzate. Un tema ripreso dall'amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi. L'idea dello Stor, che unisce prodotti e attività di diverso genere in un'ambientazione progettata con cura, è a nostro avviso una nuova frontiera commerciale e comunicativa che favorisce una relazione più solida con i nostri clienti.